Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì che vedrà alta pressione sull'Europa centro-settentrionale e l'Italia invece sottoposta a correnti orientali piuttosto instabili che interesseranno specie il sud Italia. In effetti come nuvolosità ritroviamo un po' di nubi nelle nostre regioni meridionali ma qualche addensamento insisterà anche nelle zone interne dell'Italia centrale e lungo l'Adriatico alternati comunque anche ad ampie schiarite. Precipitazioni interessano soprattutto le regioni meridionali, acquazioni temporali specie intorno al Basso Tireno ma qualche piovasco anche lungo le coste dell'Alto Adriatico in particolare in Emilia Romagna. Quindi in definitiva giornata che vedrà acquazioni temporali diffusi tra Bassa Campania, Calabria, Sicilia nelle zone interne dell'Italia centrale e poi dicevamo qualche piovasco anche lungo le coste adriatiche dell'Emilia Romagna. Per il resto situazione discreta, non mancheranno anche delle belle schiarite, temperature però che rimangono contenute. Con questo è tutto dettagli sulle singole località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie.